Perché la Toyota sceglie di essere qui ad H2R? Scegliamo di essere H2R per un semplicissimo motivo, perché riteniamo che il contesto in cui si è andato a inserire H2R sia quello giusto, sia quello di una continuazione del mondo dell'auto con un grandissimo mondo dell'eco, della sostenibilità, fatto in modo intelligente, quindi parlando di tecnologie, parlando di tecnologie a sostegno dell'ambiente, ma parlando non solo di mobilità, ma di tutto ciò che è mobilità in senso esteso, ma anche di sostenibilità in senso generale. Quindi è un modo in cui si prova la direzione giusta di una società che evolve e che non evolve solo nella mobilità, ma anche e soprattutto nella mobilità.